Ciao a tutti, in questo video voglio condividere con voi questo semplice strumento che, da dire semplice, è sbagliato perché sicuramente io avrei stato un buon team di sviluppo per realizzarlo perché è tutto qualche banale, quindi mi correggo. Comunque sia, mi sono sicuramente chiesti, come spesso me lo sono chiesto anche io, quanto più o meno guadagnano i youtuber famosi. Beh, per fortuna tramite Social Blade, questo sito, è possibile avere un'idea, consideriamo un'idea in modo approssimativo perché comunque sia, i youtuber famosi hanno molteplici entrate, non soltanto quelle negate alle inserzioni pubblicitarie nel circuito Google AdSense, ma è possibile che hanno i guadagni anche tramite, per esempio, l'affidazione con Amazon e quindi bisogna vedere più delle percentuali, quindi qui questo guadagno è limitato ai soldi banner pubblicitari che vengono messi in sovraimpressione durante il video o in fase iniziale del video finale. Così, giusto per fare un esempio, quello strumento, come logico che sia, non vi darà mai un risultato, non vi darà mai, come vi sto dicendo, un risultato più preciso, ma vi darà una stima di minima e di massima, perché come logico che sia, le inserzioni pubblicitarie hanno un range di valore in base al click che uno riceve, non tutte le inserzioni hanno lo stesso valore. Quindi, sceliamo, andiamo a vedere il Siso, giusto per vedere, ecco, per vedere questo, e giusto per, me l'ha sembrato il caso di prendere qualche youtuber che ha dei volumi, quindi questo, se l'ho ben capito bene, dovrebbe essere quello che ha il maggior traffico a livello mondiale mai visto, non so che sia, non è che sia, non è che sicuramente sta più di tanto dietro a queste cose, quindi, giusto per, vediamo un pochettino cosa ci dice riguardo questo, eh, personaggio. Mmm, ha un profilo, sia su Twitter che, eh, 1700 Upload, giusto, allora qui, questa è stata una stima, vediamo qui, direttamente, ora siete, risultati. A più, è stimato, eh, di 1,2, eh, 20, questo è l'anno, questo è il mese, 104k minimo, quindi sono 104.000 euro, oppure 1.700.000 euro, sicuramente sta a mezza strada, perché, come vedete, come vedete, qui ci dà una stima, eh, di quanto gli è stato realizzato, a parte, nei video, quanti sono sotto iscritti al canale, al canale, questa è una live, mmm, va bene, eh, 3,7, giusto per vedere, proviamo a controllarne un altro, come vi dicevo, vedete, potete fare analisi di più strumenti, in questo caso, se l'ho detto, di parlare di YouTube, quindi non mi soffermo sul resto, però potete, tranquillamente, fare una verifica, anche nei restanti video, eh, prendiamo, giusto per, eh, levarci la curiosità, me l'ho riparato, qualche YouTube famoso, a livello italiano, ecco, se ci mettono alcuni spessori, questi, eh, andiamo, eh, sì, perfetto, eh, vediamo un pochino, Sì, questo qui, mi sembra che, Sì, eh, 42, eh, 675.000 euro, 3.500 o 56.000 euro, quindi loro, ci ha stimato che per ogni uno di questi video, un guadagno di 129 euro, o 2.100 euro, vabbè, e questo è tutto, mi consiglio di, eh, levarmi, giusto per la curiosità riguardo, eh, lo strumento. Grazie. 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 Grazie.